L'insulina è uno degli ormoni noti per stimolare la ritenzione di sale a livello renale. Cos'ha questo come conseguenza? La ritenzione di sale ha una ritenzione di liquidi come conseguenza, quindi aumenta il volume ematico e può aumentare l'ipertensione arteriosa. Infatti può essere una causa di ipertensione arteriosa. Vi ricordo che parliamo convenzionalmente di ipertensione arteriosa quando misuriamo la pressione arteriosa ed è sopra i 140-190 mmHg. Allora, se noi abbiamo l'insulina che stimola la ritenzione di sale, vuol dire che abbiamo un eccesso di insulina. E quindi siamo già in un caso, in una situazione di resistenza insulinica, ovvero di iperinsulinemia. Ma quindi, per risolvere questo circolo vizioso, è assurdo che riduciamo l'introito di sale, che tra l'altro è importantissimo per la nostra salute. Ma cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ridurre l'introito di zuccheri, di zuccheri semplici, comunque anche di pasta, pane, che comunque tutto si riduce poi nel nostro intestino in glucosio. Quindi, mettendo il paziente in una dieta low carb, quindi in una dieta a ridotto apporto di carboidrati, questo avrà come conseguenza una ridotta produzione di insulina e quindi una minore ritenzione di sale a livello renale e di conseguenza una minore ritenzione idrica. E poi vedrete che l'ipertensione arteriosa non è stata più tale, in quanto i valori pressori si normalizzano, tornano alla normalità, senza dover ridurre il sale, ma soprattutto senza, molto spesso, dover assumere farmaci antipertensivi. Questo è molto importante, quindi non inculpiamo il sale per delle responsabilità che sono di un eccesso, di un eccessivo introito di carboidrati con una conseguente resistenza insulinica. Semplice, no? Ricordatevi che voi siete i veri protagonisti della vostra salute.